Truppe di terra! La base ribelle è stata in gran parte evacuata, ma è ancora molto pericolosa. Un'unità delle forze speciali è sul posto. Eliminerà i documenti compromettenti. Lord Vader vuole quei dati e li riporterete. Assicuratevi la base partendo dalle torrette Turbolado. Piazzeremo cariche e distruggeremo le difese nemiche principali. Dopodiché avanzeremo. Tutto pronto per la distruzione del Turbolaser Est. Bene! Time è partito! La sequenza di distruzione è fermata. Turbolaser Est in mano ribelle. Non vedo ancora ribelli! Pronta! Turbolaser Est! Diver partito! Granata pronta! Carica pronta! Difendete la zona intorno al Turbolaser Est! Chiaro? Difendete la zona intorno al Turbolaser Est lo spiazzo distrutto. Resta un solo bersaglio. Continuatore avvistato! Tiranata rubato! Ancora attivato! Siamo molto! Fatto! Turbolaser Ovest pronto a esplodere! Proveranno a disinnescare la bomba. Fermateli! Alleato d'elite in arrivo, fornire il supporto Controlla le coordinate Turbolaser sono distrutti, colpite le forze belle e preparateli ad avanzare Le difese esterne sono capite, ma c'è ancora molta strada da fare Occupiamo le posizioni ribelli al campo e al centro di controllo dei laser Poi toccherà la base vera e propria Crepa! Crepa! Raccorpiare gli spazi! Un ribelli attacco! Non arrendite! Comandante nemico in campo! Uniti! Siamo al controllo turbolaser, schiacceremo i ribelli! Su! Scazza! Basta giochì! Attenzione! Prendiamo il campo ribelli! Fate come vi dico! Abbiamo il controllo laser! Tutte le forze convergano al campo! No! Te vigilano i ribelli! Tommando tramite dai εδώ! Un termino i ribelli! Tenmi preoccupi allabella! Voi ci funzioniamo i ribelli! Tommando ne sono! Telefond6 usa i ribelli that Deveve Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!